Bene ragazzi sono BenWolfers e siamo tornati su Clash Royale. Abbiamo un po' di bauli da aprire, quindi facciamolo subito. 66 di oro, moschettiere, sgherri, va bene così, bauli d'argento, ci dai 50 di oro, capanna goblin e frecce, meno bene. Altro bauli d'argento, vediamo subito, 62 di oro, moschettiere, gigante royale, questo ci piace. Abbiamo da dare una mano a clan e facciamolo subito, richiediamo le carte, stavamo richiedendo un po' di fornaci, grazie, e via in battaglia ragazzi. Siamo contro Takeda Shingen, di Rantaumaniac, di livello naturalmente 8, ma ormai non ci stupiamo di nulla ragazzi. Mettiamo un tankino qui dietro, visto che lui ha messo quello stregone, e vediamo un po' come ci comportiamo. Un cucciolo di drago in arrivo, non ci piace per niente questa situazione ragazzi, ma per nulla davvero. Abbiamo messo un ottimo tank lì dietro, andiamo a mettere un minatore per avere un po' di aiuto contro quello stregone. Direi che ci siamo difesi in una maniera eccezionale ragazzi, se riuscissimo per sbaglio, ecco, a fare un po' di danno su quella torre, sarei particolarmente contento. E ora sta a lui, vediamo un po' come ci attacca. Quella strega, sapete benissimo che non ci piace affatto. Cavaliere, orda di scheletri e bombarolo. Vediamo un po' di tamponare quantomeno il danno che ci sta per arrivare addosso. Purtroppo quelle frecce hanno decimato i nostri scheletri e che sfiga ragazzi, la torre avversaria ha colpito il nostro bombarolo. Dico che sfiga perché sinceramente il cavaliere a me sembrava più avanti, ma io non vorrei dire, però secondo me era più avanti. Ricordiamoci che lui ha un attacco potente che ci può arrivare da un momento all'altro. Mandiamo il nostro minatore. Perfetto, lui manderà lo stregone. No, guardate un po' chi manda. Attenzione ragazzi, mettiamo anche un cavaliere, va, perché io di quei cosi non mi fiderò mai nella vita. E arriva anche una valchidia, e che cos'è. Io direi di mettere un bombarolo dietro la torre, esatto, perché noi ci teniamo che resti in vita. Il suo è stato un bellissimo attacco ragazzi, non c'è che dire. Adesso mettiamo un gigante, ricordiamo che c'ha lo stregone. Ah, ha messo anche la strega, ha messo. Va bene così, finché mette la strega a noi va bene. E quello, peccato. Si è difeso benissimo ragazzi, eh. Diciamo le cose come stanno. Si è difeso benissimo. Di per fortuna ha deviato. Subito un cavaliere, perché purtroppo lì ci sta morendo l'impossibile. Eh, mamma mia. Allora, lì purtroppo c'è quello stregone che è ancora vivo. Mettiamo subito, ecco, appunto, un gigante in modo da attirare il fuoco avversario. Ok ragazzi, lì diciamo che va bene così. Sono tentato di fargli una sortita, ma guardate che sta arrivando lì sulla destra. Tanta roba cattiva ragazzi, tanta roba cattiva. Ok, bombarolo, cavaliere, lui sta facendo un attacco che mamma mia. Dei goblin lanceri. Il nostro vero problema è quello stregone lì. Che ci crea veramente un sacco di problemi. Quindi direi di mandare assolutamente il nostro gigante ad attirarlo per adesso. Bombarolo, perché dobbiamo difenderci in qualche modo. Cavaliere subito, gentilmente deve sopravvivere quel bombarolo. Ok ragazzi, direi che ci siamo difesi discretamente bene. Tu vieni qui sopra perché non vogliamo prendere danno alla torre principale. Mandiamo un minatore un pochino più in alto. E ho fatto male, perché purtroppo quello stregone lì è inutile dire che ci crea un po' di problemi. Lui ha sempre il suo simpaticissimo gigante royal. Eccolo. E ha anche le frecce. Attenzione, non dimentichiamo. Io metto una fornace qua perché ecco, sono in arrivo le frecce, appunto. Minatore subito. E niente da fare ragazzi. Anche se il minatore ci permette al bombarolo di sopravvivere, non riusciremo mai a finire quella torre. Quindi io direi che abbiamo a che fare con un bel pareggio. È stata comunque una bella partita. Lui era pur sempre di livello superiore. Non dimentichiamolo. E una corona la portiamo al clan. Subito, altra battaglia. Grazie a Sarsiciotto per quella fornace. Siamo contro Summit dei Joker. Di livello 9. Ok, ok, ok. Prepariamoci a prendere un po' di schiaffio. Metterei questi gobbi lanceri un pochino più dietro. In modo tale da far arrivare il minatore. Ragazzi, questi stregoni mi stanno stancando che non avete idea. E in questo momento subiamo tantissimo l'assenza nel nostro deck della palla di fuoco. Ma veramente tanto, ragazzi. La stiamo sentendo, eh. Perché lui adesso ci può andare in hit tantissimo. Eh, mamma mia, anche quel mega sgherro. Noi dobbiamo sperare che il bombarolo buono elimini il bombarolo cattivo. E così è. Quelle fiammelle per fortuna hanno fatto un lavoro fantastico. Il cavaliere purtroppo attrae soltanto una truppa più piccolina. Abbiamo preso degli schiaffi. Sono comunque soddisfatto della difesa, ragazzi, eh. Quel bombarolo è andato in hit tantissimo. Ma sono sopravvissuti due lanceri. Bene così. Bene così, ragazzi. Diciamo che la situazione si è rimessa un attimino in pari. Adesso però dobbiamo vedere come si comporta lui. Noi ci sta arrivando un gigante. Ci dici buona fortuna. Grazie. Mandiamo subito il gigante. Non ho capito il suo buona fortuna. Sinceramente. Mandiamo anche un bombarolo. È purtroppo lì. Oh, magari il bombarolo elimini quelle fiammelle. Grazie. No, eh. Mai nella vita. E figuriamoci. Poi è arrivata un'altra bomba su quello stregone. Vi dirò. Io sono soddisfatto così, sinceramente. Io manderei quel minatore a prendersi. Non ce la farà mai nella vita il danno di quel bombarolo. Però per fortuna ci fa abbastanza male su quello stregone. Io posso ritenermi soddisfatto, ragazzi. Noi abbiamo splittato molto il nostro danno. Ma siamo stati costretti dal suo modo di giocare. Io metterei un'altra fornace qui dietro. Andrei. Eh, mamma mia che sta arrivando lì sulla destra, ragazzi. Non ci piace affatto. Ma veramente affatto. Fiammelle gentilmente eliminate tutto quello schifo. Grazie. Il bombarolo ha eliminato anche le fiammelle avversarie. Questo ci è piaciuto da matti. Abbiamo assolutamente bisogno di difenderci contro quel maledetto. Mandiamo un... Eh, mamma mia. Eh, che cosa sei? Se ti giri, no, eh. Non si gira. Non dà la mano. Ok. Metto un bombarolo a darci una bella mano. Un altro cucciolo di drago. Eh, mamma mia. Guarda la merda che ci sta arrivando. Ci teneva veramente tanto a far fuori la nostra torre. Non c'è che dire. I miei complimenti. Però adesso ti devi anche difendere dalle truppe che ti stanno arrivando addosso, eh. Non è che sia proprio easy easy qua, eh. Lì purtroppo ha messo quegli sgherri che gli danno una bella mano. Ma non puoi fare null'altro, ragazzo. La vittoria è nostra. Esattamente allo scadere della partita. Abbiamo giocato un secondo di supplementare. Ci piace. Un altro baule d'oro? E che è il festival dei baule d'oro? Va bene. Apriamoci il baule della corona di ieri, in realtà. 415 di oro. 3 gemme. 10 sgherri. Va bene così. Bombaroli datemene veramente un sacco. 27 barbari scelti. E i 3 moschettieri. Questi io avrei evitato, ma fa niente. Ci è arrivato un altro baule omaggio. Apriamolo subito, già che ci siamo. 69 di oro. Mini pecca. Gigante royal. Va bene così. Io direi di andare a fare un baule d'oro in sviluppo. E facciamo l'ultima battaglia di oggi. Vediamo un po'. Possiamo, possiamo, possiamo mandare un minatore con un goblin lancere. E vedere lui come se la cava. Come se la cava. Eh, una palla di fuoco cattivissima. Attenzione. A noi va bene così, eh. Alla fine del conto hai consumato 4. Perché lamentarsi. Mettere un cavaliere. Grazie. A prendersi il danno di quegli schifosi. Perfetto direi. Ma andiamo un bombarolo. A dare una mano a quel drago. Perché da solo il danno non lo fai. Lui ha giocato una carta infide bastarda. Però ha consumato pur sempre 3. Se la torre mi va sul minatore tardi. Inutile dire che è andata sul minatore tardi. Pazienza. Comunque il nostro cavaliere farà un po' di danno. E la torre ce la portiamo allegramente a casa. Ora, noi abbiamo lì una principessa che non ci piace se gli dava l'altra hit il nostro cavaliere. Non avete idea di quanto mi faceva contento. Io manderei. Eh, mamma mia. Non ci piace affatto questa situazione, ragazzi. Non ci piace affatto. E occupiamo con un cavaliere. Non importa prendere le hit in questo momento lì. Siamo veramente costretti. Perché dobbiamo far fuori quello stregone. Paradossalmente mi ha dato una mano con quella tornado. Eh, che cosa sei tu? Perché la linea se n'è andata? Eh, non mi è piaciuto per niente. Se n'è andata proprio quando lui ha giocato l'orda di scheletri. Ma io non lo so, ragazzi. Purtroppo, scusate, ma i problemi di fibra sono anche questo. Allora, lì la situazione è un po' brutta. Per fortuna è arrivata quella bomba che ci è piaciuta da matti. Ma veramente da matti. Mandiamo un minatore a dar fastidio a quella torre. Qualche hit gliel'ha data. Non riesco a mettere il gigante in tempo, purtroppo. Palla di fuoco cattivissima, ragazzi. Eh, cattivissima. Cucciolo di drago. Cavaliere. Lanceri. Bomba loro dietro il cavaliere perché lì sta arrivando una valkyria. Minatore. A prendersi le botte di quello stregone. Eh, mamma mia, questa tornado. Abbiamo il doppio drago che dovrebbe far fuori l'impossibile. Vediamo un po' come ce la caviamo. Purtroppo quel bomba rollo è morto male. Inutile negarlo. Lui ha imparato improvvisamente come si lancia il barile. Eh, un'altra palla di fuoco. Che sei? Un deck palla di fuoco, sei? Allora, mandiamo... Eh, ci avevi la specchia allora, eh? Balordo. Uh, quanto male gli arriva quel povero gigante. Eh, se me eliminavi quello stregone te ne volevo bene, ragazzo. Mettiamo una fornace dietro la torre. Un minatore cattivissimo qui dietro. Un'altra palla di fuoco. Ragazzi, questa è brutta, ma veramente brutta. Perché purtroppo abbiamo poco modo di difenderci. Eh, mamma mia. Mandiamo un cucciolo di drago, va. E io manderei anche un gigante a questo punto, perché sì. Quella torre ha bisogno di subitano. Bomba rollo instant. Se ci dai una mano, grazie, bomba rollo. Gentilissimo. Mandiamo un minatore su quella torre. E la partita è nostra di nuovo, nonostante la disconnessione. Bella partita, ragazzi. Sono abbastanza soddisfatto. Altri due corone per il clan. E altri due corone per noi. Per questo video direi che è tutto. Vi ringrazio. Se vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete. Grazie e alla prossima. Ciao. Ciao.